Si lavora lacrimente in comune a Montesilvano per definire ogni singola questione organizzativa in vista del grande evento della Jova Beach Party del prossimo 7 settembre. Nella giornata di domani autorità cittadine ed organizzatori convocati dal prefetto a Pescara per fare il punto della situazione. Stamattina invece ulteriore riunione tecnica a Palazzo di Città per definire il piano di mobilità. Presente alcuni delegati delle diverse aziende di trasporto, tra cui l'amministratore unico di San Gritana Pasquale Di Nardo, oltre ovviamente a diversi assessori comunali, è il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Grazie anche alla collaborazione con le amministrazioni comunali di Pescara e Città Sant'Angelo, definite alcuni punti di raccolta dove gli appassionati di giovanotti potranno lasciare le automobili e salire sulle navette emesse a disposizione. Due punti già individuati, il mercato ortofrutticolo di Villanova e l'interporto di Manopello, riservati a coloro che verranno da fuori. A questo, grazie anche alla disponibilità del sindaco di Città Sant'Angelo, Parazzetti, a direttore del centro commerciale, va aggiunta un'ampe area del parcheggio dell'Outlet Village. Le navette poi trasporteranno le persone nel punto di approdo indicato tra Via Arno e Via Adige. Ricordiamo che l'area scelta per il concerto va da Bagni Bruno a Sabbiadoro e che tutto il lungomare di Montesilvano sarà chiuso al traffico con precisione da Via Arno ai grandi alberghi. Di questo e di molto altro si parlerà domani davanti al prefetto Basilicata e ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Stiamo lavorando alacremente e costantemente al fine appunto di non inficiare quella che sarebbe un evento, la riuscita di un evento molto molto atteso da tutti, soprattutto da noi, perché riteniamo che l'Abruzzo non possa mancare, insomma in termini nazionali, a un concerto così importante che sta portando pubblico e diciamo divertimento in tutte le diverse città italiane. Tra l'altro prossima settimana anche gli stabilimenti che hanno comunque mostrato da subito disponibilità dovrebbero iniziare a togliere gli ombrelloni. Sì, parlavo di tutti gli elementi utili alla riuscita e uno di questi è anche il sacrificio da parte di alcuni balneatori, nel caso specifico a Montesilvano, Sabbiadoro e Bagni Bruno, ma anche l'hotel Prestige che ha in quella zona dell'ombreggio. Oggi pomeriggio ho un incontro anche con loro al fine di ragionare delle forme alternative a quelle che sono insomma le loro esigenze. Devo ringraziare i comuni limitrofi, le persone dei sindaci di Città Antangio, Spoltore e Quanto Pescara che ci hanno assicurato insomma la collaborazione utile alla riuscita.